Musica Sono con Isabella Di Nolfi che è il direttore artistico di Wild Angels e si occupano di Mallow Country. Isabella, cosa vedremo questi giorni in Piera? Buongiorno a tutti, vedremo gente che viene da tutta l'Italia per divertirsi, tutti insieme a ballare su questa bellissima pista in un finalmente posto esclusivamente dedicato al ballo perché quest'anno Team4U ci ha regalato un padiglione tutto per noi e quindi siamo molto felici. Facciamo corsi, ci sono gli stage, ovviamente gli orari bisogna controllare il programma perché ce ne sono molti e facciamo corsi sia a livello principiante per chi non ha mai ballato e vuole iniziare a muovere i primi passi oppure per chi già balla e vuole imparare delle coreografie abbastanza complicate. Voi siete otto anni che venite al Salone del Cavallo, perché questo appuntamento è così speciale? Allora gli appuntamenti sono tantissimi, purtroppo negli anni se ne sono visti tantissimi, organizzati bene, male, una serie di eventi. Il Salone è il punto di incontro di noi ballerini e anche ovviamente di chi ama al mondo dell'equitazione americana e tutto il resto. Perciò per noi il Salone è il punto di partenza che ci porta al periodo estivo. C'è qualcosa che vorresti dire a chi vorrebbe iniziare ma magari ha un po' paura e si vergogna? Allora il ballo country è una cosa molto easy, nel senso che il ballo è la cosa minore. Provate a ballare country e troverete una grande famiglia. Noi Isabella ti ringraziamo e potete trovare Isabella, White Angels e il ballo country nel padiglione numero uno.